Salve a tutti, cominciamo a vedere un po' la vita e la figura di Mikhail Kuzmin. Mikhail Kuzmin nasce intanto nel 1872 a Jaroslav. Nasce in una famiglia di antico lignaggio, sua madre discende da una famiglia francese, cresce attorniato da figure femminili, delle governanti, la madre, le sorelle, perché perde prematuramente il padre e questo sicuramente è un tratto che poi influenzerà il suo orientamento sessuale. Lui già nell'84, 1884, si trasferisce con la famiglia a San Pietroburgo, dove nel 91 si iscrive al conservatorio e studierà musica pianoforte per due anni. Si dedicherà in maniera professionale alla composizione musicale, comporrà delle canzoni musicali e tutta la sua infanzia e anche la sua adolescenza è segnata sicuramente dall'amore per la musica, per l'arte e anche e soprattutto per la letteratura. Lui legge tantissimo, legge libri europei di vario genere, da Hoffman a Shakespeare, molto diversi anche tra loro e quindi ha una grande cultura, sin da piccolo comincia a sviluppare questo lato culturale. Nel vivrà in adolescenza anche un po' in maniera attormentata la sua omosessualità, perché lui sì, a un certo punto quando pubblicherà Vanya, lui accetterà la sua omosessualità, comincerà poi anche a truccarsi, però inizialmente la viva in una maniera un po' comunque negativa, perché sicuramente nelle grandi capitali non era una cosa ben vista, inoltre c'erano delle leggi del codice civile che vietavano un certo tipo di atteggiamento, quindi lui la vive inizialmente in una maniera un po' traumatica. Nel 1895 c'è un viaggio molto importante che fa in Medio Oriente. Da questo viaggio scaturiranno quelli che sono i canti di Alessandria, che sono impensabili senza questa figura del Prince George, che tutt'oggi rimane una figura misteriosa, non si sa di chi si tratta. È una figura che lo ha accompagnato in questo viaggio e centrale in molte delle liriche comunque dei canti di Alessandria, dove vengono nominati i suoi occhi grigi e queste sopracciglia nere, folte, scure. Quindi questa è un'esperienza molto importante, visita Cairo, Smirne, Costantinopoli, ma soprattutto, anche Atene ovviamente, ma soprattutto Alessandria d'Egitto, che gli rimane impressa e dedicherà appunto queste dire che proprio saranno intitolate i canti di Alessandria e confluiranno nella sua raccolta Redi. Ora, nel 1897 compie anche un viaggio in Italia, anche questo viaggio è importante perché lui era molto attratto da quello che era il cristianesimo, il primo cristianesimo però, cioè la forma di cristianesimo che ancora non si era cristallizzata. Quindi c'erano le mescolanze degli elementi pagani con elementi cristiani. E' molto attratto anche dal cattolicesimo, il cattolicesimo di stampo gesuita, pensa addirittura di convertirsi. Lui in genere, Zinda Piccolo, era molto credente, molto spirituale, ha la continua ricerca anche del bello nella vita, nella letteratura. Era una persona da una grande sensibilità. E quindi sicuramente questo lato spirituale anche si riverbera poi nella sua poetica. Questo viaggio in Italia è importante perché le esperienze che compie in particolare a Firenze e a Roma lo segneranno e confluiranno in quello che poi è Vagna. Ora, prima di arrivare a Vagna, ricordiamo che alla fine degli anni 90 c'è tutto un primo Mikhail Kuzmin che torna in Russia da questi viaggi e non sa decidersi su cosa fare nella sua vita, che professione, che strada scegliere. Decide di abbandonare la musica e parte per una serie di vagabondaggi nel nord della Russia con questi vecchi credenti, stando appunto presso i vecchi credenti che vivevano alle periferie delle città e lui è molto affascinato da loro e soprattutto a modo di accedere a questa lingua dei vecchi credenti che era un linguaggio che egli considerava puro non contaminato dagli usi della capitale e comunque appunto non modificato ma proprio una lingua vera e autentica che poi si riverbererà nelle sue composizioni insieme a una mescolanza della sua grande conoscenza del mondo classico latino della sua conoscenza di tutti questi testi europei che ha letto fin da piccolo abbiamo una lista proprio con tutti i titoli di tutti i libri che lui ha letto questa lista l'ha compilata lui stesso ed è molto lunga, credetemi. Ora, lui quindi è affascinato da questi vecchi credenti comincia questa serie di vagabondaggi e in questo periodo anche il suo aspetto esteriore sarà molto diverso poi da quello che sarà il secondo Cusmin pietroburghese lui qui si veste di cenci si fa crescere comunque la barba lunga è tutto un po' trasandato quindi è un Cusmin completamente in opposizione a quello che sarà poi una volta rientrato a Pietroburgo ora, lui infatti rientra da questi ricordiamo anche un'ultima cosa su questo fatto del linguaggio dei vecchi credenti non a caso uno degli autori preferiti di Mikhail Cusmin era un autore che si chiamava Jeskov il quale, come lui, era in grado di immettere in queste sue composizioni proprio la lingua parlata dalle popolazioni in base alla loro collocazione geografica ora, arriviamo al periodo pietroburghese lui rientra a Pietroburgo e nel 1906 pubblica questo primo romanzo sull'omosessualità in Russia intitolato Krylya che significa ali però in italiano viene tradotto come Vagna il titolo Vagna è il nome appunto del protagonista questo romanzo gli dà subito molta popolarità è un romanzo che gli dà una fama un po' controverso ovviamente perché in base a chi legge o viene assostenuto o viene comunque attaccato è importantissimo questo romanzo perché egli lo scrive in un modo che è talmente tanto naturale con talmente tanta naturalezza che non appare alla fine proprio per niente trasgressivo e per questo infatti non avrà difficoltà nel circolare anzi circolava già prima nelle versioni manoscritte prima della pubblicazione nel 1906 esce sulla rivista e nel 1907 esce in volume è un romanzo che ha al centro della sua trama perché poi non c'è una vera e propria trama la formazione omosessuale di questo giovane Vagna dico che non ha una vera e propria trama perché in realtà è tutto un romanzo un accavallarsi di...